Eccoci con Bram, stavano parlando anche da studio di questa ritrovata solidità difensiva del tanto lavoro che state facendo, immagino che sia soddisfazione anche da parte vostra perché sui campi qui vicino del Bruseschi faticate tanto durante la settimana e i frutti si vedono poi la domenica in campo. Sì, ma penso la difesa è molto bene, abbiamo giocato una partita difficile ma sono contento con la difesa perché era difficile ma un punto sì va bene. Due attaccanti della Nazionale Italiana contro però li avete arginati bene, peccato che il gol sia arrivato su un jolly pescato con una grandissima giocata da parte di Meite perché voi siete stati praticamente perfetti. Sì, sì, il gol era molto bello ma ok dopo il gol abbiamo giocato anche bene ma dura, il campo era dura, il tempo era dura ma sono contento perché un punto si fa bene e abbiamo giocato bene in difesa. C'è grandissimo feeling tra te e Kong, si vede che vi trovate, che vi piacete, è un qualcosa che avete provato per fortuna anche durante tutta la settimana perché col fatto che Kong non è partito con la Nazionale la seconda settimana è rientrato in gruppo, questo secondo te ha aiutato ulteriormente a migliorare i meccanismi difensivi? Sì, 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 perché parliamo la stessa lingua e è più difficile per noi, anche per William perché lui non parla italiano e adesso parliamo olandese, inglese e italiano con tutta la squadra e va bene così. Io penso che lui gioca molto bene, lui è un forte giocatore e per me è anche bene perché come si dice senti bene con lui e io penso giochiamo bene con lui. Stai facendo un po' da tutto, prima abbiamo avuto Pussetto che ci ha detto che De Paul gli sta dando una grande mano, tu stai facendo la stessa cosa con E-Kong, gli stai dando una mano anche per entrare nei meccanismi della squadra anche se E-Kong ha una bella personalità quindi immagino che stia facendo anche un po' tutto da solo. Sì, sì, perché lui è anche un giocatore fisico, lui è molto forte con la testa e lui vuole giocare con palla ma quando non è possibile lui gioca con la testa e non rischiamo niente e io penso adesso la difesa è molto bene. Brahm, oltre alla soddisfazione per la chiave difensiva c'è comunque soddisfazione per questo pareggio portato a casa contro una squadra che dicevi giustamente tu prima ha grande qualità. Sì, Torino ha molta qualità, loro sono molto forti ma anche noi abbiamo una squadra forte e con molta qualità ma oggi abbiamo giocato molto bene perché il campo è duro, è malissimo ma va bene, è così.